Ciao amici del Nuovo Calcio, siamo oggi in compagnia di coach Jacopo e del CrossFit Pietrasanta e vi illustreremo che cos'è intanto il CrossFit e se può essere inserito all'interno della preparazione fisica del calciatore. Jacopo, parlaci un attimo del CrossFit. Il CrossFit è un programma di forza e condizionamento basato sul mix di esercizi della ginnastica, del sollevamento peso olimpico e di altri esercizi aerobici come può essere la corsa, il nuoto, la bicicletta, il rowing. Questi esercizi vengono sempre messi insieme in modo variato e differente e vengono sempre eseguiti ad alta intensità. Tutte queste componenti possono essere inserite all'interno della preparazione fisica del calciatore seguendo però alcune piccole linee guida. Dobbiamo quindi distinguere il CrossFit Sport da il CrossFit metodo di allenamento di uno sport specifico. Andremo adesso a vedere alcune esercitazioni per quanto riguarda la tecnica di esercizi di forza. Buon lavoro! Ciao! 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 Ciao!